In merito al Reis Romoli, devo dire che anche il blocco 11 dall'ospedale San Salvatore è finito e quindi potrebbe essere adattato, ma probabilmente può anche essere utile al Reis Romoli perché ha, se non ricordo male, un centinaio di stanze, c'è, devo scelto, ma molto ristrutturato ai fini, ma se i cinesi in dieci giorni riescono a fare un ospedale e in pochi giorni a Milano stanno trasformando la fiera in ospedale e finiranno fra pochi giorni, penso che si possa ristrutturare sia la Reis Romoli ma anche perché no, l'ospedale, il blocco 11 presso l'ospedale San Salvatore. Ma una certezza che se Diorio ha detto che non si deve fare, sicuramente Reis Romoli e blocco 11 dell'ospedale San Salvatore verranno fatti.